PEGI 18 Quante cose sono cambiate. Sono stato via troppo a lungo. Ci hanno fregato con la bomba. Non si sa come. Hanno sottomesso questo mondo. Ci hanno tolto la libertà. Distruggendo ciò che ha richiesto secoli per essere costruito. Hanno terrorizzato il mondo con il loro potere. Schiavizzando milioni di persone. Rivolte. Ribellioni. Resistenza. Schiacciate da uno stivale di ferro. Hanno riscritto pagine di storia. Ostentando la propria forza. Credono che la guerra sia finita. Ma si sbagliano di caso. Iniziamo per il nostro canale. Queste, che mi da? Quei i profani. Si qui, iniziamo l'imperare. Sì, che mi da?